ciao ragazzi allora diciannovesima missione di peacekeeper what job part 2 cosa dobbiamo fare andare su shoreline più precisamente su scav island che quell'isoletta collegata alla costa tramite un relitto una petroliera affondata un relitto di una nave allora dovete entra andare sulla petroliera a passarla entrare di là andare sulla casetta c'è una casetta è tipo una casetta di pescatori entrate dentro c'è un lato come si vede sulla mappa che da proprio sull'acqua c'è un buco sulla parete e il pavimento va quasi in acqua e dovete mettere lì il marker aspettare i soliti 30 secondi e scappare dovete per completare la missione uscire vivi da shoreline potete farlo anche in un secondo momento allora l'unica parte difficile di questa missione sarà nell'uscire da scav island perché i player se vi vedono andare su scavando comunque vi vedono su scav island cosa faranno si metteranno all'uscita dalla petroliera della nave e vi aspetteranno per uccidervi si metteranno dove o su questo bosco o su questo bosco vi miraranno capito l'uscita anche perché c'è solo quella come uscita quindi abbastanza facile uccidervi quindi state attenti a non farvi vedere girare troppo su scav island e state bassi quando uscite ciao belli ciao 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 Sì, 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 sì. Autore dei sorrisi